Musica Sabato 4 luglio, buongiorno, ben ritrovati con l'informazione di Telemolisse, vertice in regione tra i partiti del centro-sinistra e il governatore Paolo Frattura che ha annunciato una svolta nell'azione di governo. E intanto Palazzo Chigi ha osservato il collegato alla legge di stabilità regionale, ma l'ente nomina il nuovo CDA per il contratto d'area. Mentre sul fronte giudiziario continua l'inchiesta a Scarabeo che vedrebbe coinvolti anche due alti dirigenti della regione Molise. Ma sentiamo Giovanni Minicozzi. Da oggi si cambia passo. E' questa l'affermazione perentoria fatta dal presidente della regione Paolo Frattura ai segretari dei partiti di centro-sinistra, assente Gigino D'Angelo Di Selle per sua scelta, riuniti in conglave nella sede di Palazzo Vitale. Il vertice si era reso necessario dopo che i partiti alleati del governatore avevano espresso la fiducia alle istituzioni rispetto alle richieste di dimissioni avanzate da una parte del centro-destra e dal Movimento 5 Stelle. In quella occasione molti segretari, in particolare quelli dei partiti di sinistra, avevano espresso critiche sull'operato del governo targato Frattura. Ora ci sarebbe la svolta annunciata dal governatore sul lavoro, sanità e maggior coinvolgimento degli alleati sulle scelte importanti. Il presidente ha ribadito inoltre che il rimpasto della Giunta avverrà alla scadenza di metà mandato quando si dovrà eleggere anche il nuovo presidente del Consiglio. Questa volta, ha detto Frattura muso duro, riferendosi forse ai parlamentari del PD, non mi farò condizionare da nessuno. A dire il vero, Paolo Frattura, nei due anni di mandato, ha promesso più volte agli alleati una svolta nell'azione di governo che, a giudizio di molti, fin qui è stata. Quanto meno opaca. Intanto, Palazzo Chigi ha osservato il collegato alla legge di stabilità regionale nella parte che riguarda l'esternalizzazione di alcuni servizi, potendo utilizzare personale e dirigenti della regione, di fatto ridimensionati ed emarginati dalla nuova normativa. Nel frattempo, però, i carrozzoni aumentano. Nei giorni scorsi, infatti, è stato nominato il nuovo CDA per la gestione del contratto d'area, composto da Teresio Di Pietro, segretario dell'Udc, l'ex sindaco di Trivento, Pasquale Corallo, primo dei non eletti nella lista rialza di Molise, Gaetano Policella, vice sindaco di Boiano, Gino Di Silvestro, di Isernia e Antonella Nardella, di Boiano. Novità anche sul fronte dell'inchiesta giudiziaria che ha coinvolto l'ex assessore Massimiliano Scarabbeo. Secondo indiscrezioni, infatti, l'ultimo pagamento alla Aircom sarebbe stato effettuato il 26 maggio 2014 e la procedura di revoca, riferita anche ad altri finanziamenti, sarebbe stata avviata solo dopo l'incursione della Guardia di Finanza nell'assessorato alle attività produttive fatta per acquisire le carte. Peraltro, tale procedura non si è ancora conclusa, poiché i legali dei fratelli Scarabbeo si sono opposti. L'altra notizia eclatante riguarda due alti dirigenti della Regione, uno dell'assessorato alle attività produttive e l'altro della Giunta regionale, i quali sarebbero stati convocati dagli inquirenti per essere interrogati. DNA è il secondo romanzo di Dario Giardi, uscirà nelle librerie italiane l'8 luglio per la casa editrice Leone. La storia prende l'avvio in Molise e in Molise è il cuore dell'intera vicenda. Tonino Danese DNA è un incalzante romanzo, un thriller fantascientifico di quelli che tengono il lettore incollato alle pagine fino all'ultima, grazie a una trama avvincente e ricca di colpi di scena. Pubblicato dalla casa editrice Leone sarà nelle librerie dall'8 luglio. Dario Giardi, l'autore, 38 anni, romano, è al suo secondo romanzo dopo l'intimo riflessivo La ragazza del faro. Per dare forma e sostanza a DNA si è avvalso anche della sua esperienza come autore di guide turistiche, della passione per la storia, l'archeologia, la fotografia e i viaggi. Nel libro Tutto ha inizio in Molise alla fine degli anni 70. Un reperto rinvenuto durante gli scavi che hanno portato a scoprire l'Homo a Eserniensis nasconde una verità che il Vaticano vuole tenere nascosta. Poi un salto temporale fino ai nostri giorni a Città del Messico, dove la protagonista Estela si mette alla ricerca del fidanzato Daniel scomparso durante una spedizione speleologica in Italia. In particolare sul massiccio del Matese, altro luogo molisano al centro delle vicende. Durante questa ricerca la protagonista si imbatterà in qualcosa di inaspettato e molto pericoloso, qualcosa capace di rivoluzionare tutto quello che pensiamo di conoscere sull'evoluzione dell'uomo e anche di scuotere le fondamenta della Chiesa e del credo cristiano. La storia, pur essendo chiaramente romanzata, richiama infatti nel testo luoghi, siti e ritrovamenti realmente tuttora esistenti. Giardi ci porta in luoghi inesplorati dell'Italia. La scoperta anche della civiltà nuragica sarda, quella etrusca, affronta temi scientifici e teologici. Verità e finzione sono amalgamate sapientemente, con attenzione in una storia coinvolgente in cui il Molise ha un ruolo centrale. Sono romano ma mi sento molisano d'adozione. Il Molise infatti è la regione originaria di mia moglie. L'ho scoperto e ne sono rimasto affascinato. Ritengo sia un territorio ricco, sia dal punto di vista del patrimonio paesaggistico, sia dal punto di vista del patrimonio culturale. È una ricchezza ancora più straordinaria, se si pensa che ancora oggi poco conosciuta e inesplorata. E parte stasera Yelzi nell'area degli stabilimenti Metal Zilembo, l'ottava sagra dello Fugnateglie, piatto tipico della zona, ormai ricercatissimo e apprezzato dal grande pubblico. Per due giorni gusto, musica, sport saranno protagonisti. Sentiamo le anticipazioni da Giuseppe Carriera. Da otto anni è celebrato con la sagra organizzata da Promolise che si svolge nell'area degli stabilimenti Metal Zilembo, ma da sempre Uffunateglie, così come chiamato nel dialetto del luogo, è una sorta di simbolo per Yelzi e per l'area circostante. Un piatto della tradizione contadina che riassume in sé la genuinità, ma anche la storia e la tradizione popolare. Partiamo dagli ingredienti. Salsiccia stagionata e non fresca, perché nei tempi antichi veniva preparata in inverno e messa sotto la sugna, conservante naturale. Poi gli ortaggi freschi d'orto, tipici della prima parte della stagione estiva, già perché Uffunateglie era il sostentamento, il giusto ristoro e in parte la ricompensa per il duro lavoro nei campi, soprattutto in fase di metitura, che veniva eseguita rigorosamente a mano. E infine le uova, proteine di energia allora a gusto tradizionale invece oggi. Ora questo piatto tipico viene riproposto come l'attrazione principale dell'ottava sagra che in questo fine settimana viene organizzata come ogni anno. Ricca la lista di ospiti d'eccezione che animeranno le serate del sabato e della domenica, si parte con il Cico Cico di Gio Valeriani, autentico mattatore che nella musica da ballo e nell'allegria spontanea pesca a piene mani. Il sabato sera il suo regno, con balli di gruppo e non solo. Ma nel cast del fine settimana anche i Rota Temporis, formazione originale nei costumi, nella presenza scenica oltre che nella proposta musicale. I molisani traetnica sono invece la base musicale della domenica sera. Da alcuni anni, in occasione dell'evento gastronomico dedicato a Funateglie, si svolge sempre nell'area di contrada a colle del giudice a Ierzi l'originale incontro Ape Carre, in cui vere e propri bolidi su tre ruote si sfidano su un percorso adatto a metterli alla prova. Fornelli dunque più che riflettori accesi sull'evento gastronomico di metà estate. Lasciamo l'informazione e andiamo ad esaminare le prime pagine dei quotidiani di oggi. Con Lucio Felicita in regia partiamo dal giornale del Molise.it. Decreto Balduzzi-Iorio. Frattura è svenduto il Molise per evitare il commissariamento. Si turni al voto. Nella conferenza Stato-Regioni di ieri il Molise ancora una volta aderisce all'intesa e quindi approva i provvedimenti relativi all'applicazione del decreto Balduzzi. È semplicemente scandaloso assistere in ermi ad un taglio poteroso del servizio sanitario che a causa dei nuovi standard ospedalieri riguarda anche la riduzione del personale dei punti del 118 e non battere ciglio. Gruppi regionali, rinvio a giudizio per Enrico Gentile, per ex AN, l'accusa è di peculato. ITR e l'IKF incassa il via libera dall'Assemblea dei creditori. Ora manca solo l'ok delle banche. Lutto nell'arma, stroncato da un infarto. Il comandante di Montenero, Scarinci. Poi spaccio di cocaina, 34 anni di Sernia, arrestato dai carabinieri. Forum della sinistra giovanile, solidarietà a Bonomolo e Dilio, silurati dal PSI per aver criticato Frattura. Continuiamo con la stampa regionale. Primo piano molise, l'aria è cambiata, centro-sinistra in conclave. I segretari di partito ricevuti dal governatore a Palazzo Vitale, l'obiettivo è rafforzare il raccordo che si è allentato tra l'esecutivo e le forze politiche. Rispondono tutti all'appello unico assente, l'indignato Gigino D'Angelo, numero uno di SEL. Oggi scadono i termini del caso Scarabeo, anche i legali dell'ex assessore presentano istanza al riesame. L'IKF Assemblea dei creditori dice sì alla cessione della ITR OTI. Ad un passo dall'acquisizione, accettata l'offerta avanzata dal fondo milanese, adesso manca solo il placet delle banche. Stroncato da un infarto a 50 anni, muore il luogotenente Scarinci, funerali a D'Urtona, il cordoglio di Travaglini e Nero, lutto cittadino a Montenero di Bisaccia. Vediamo in alto, Bruxelles approva il nuovo PSR, facciola 210 milioni per rilanciare il tessuto produttivo. Taglia la sanità, Iorio affonda frattura, svende il Molise per non essere commissariato, l'intesa nella conferenza Stato-Regioni. A Boiano, Gamma, ipotesi avi Molise, quasi al tramonto, SOS dei sindacati al prefetto. A Campobasso, scarsa collaborazione, Ambrosio con la Russo e Madonna, pronti a passare all'opposizione. Vediamo lo sport, Campobasso è fatta per l'attaccante Aquino del paterno, intanto arbitri Alessandro Petrella, il nuovo presidente del CRA Molise. Lasciamo primo piano Molise, andiamo al quotidiano, PSR 210 milioni dall'Europa, il Molise tra le sei regioni che hanno ottenuto fondi per il piano di sviluppo rurale. Frattura e facciola, commentano entusiasti, si potrà rilanciare il tessuto economico e sociale del territorio. A Campobasso, giuramento solenne per 97 nuovi carabinieri, poi per l'estate in città dal 6 luglio al 31 agosto pubblicato il cartellone. La cronaca, cocaina e ovuli di eroina, arrestato e denunciato. Precari della scuola, il MIUR condannato ad un maxi risarcimento, verdetto esemplare del Tribunale di Larino. Effetto Jobs Act, union camera e ottimista, 240 posti di lavoro in più, previsioni confortanti per il settore privato. Andiamo a vedere lo sport, Serie D, Campobasso ha raggiunto l'accordo con l'attaccante Orlando Aquino, poi CR a Molise e la termolese Alessandro Petrella, eletto presidente. Andiamo alla Gazzetta del Molise, servizi e personale tagliati, sanità al collasso. Poi l'Oscar del giorno viene consegnato a Vittorino Facciolla, il tapiro del giorno a Marcello Miniscalco. Andiamo a vedere ora futuro Molise, Montenero di Bisaccia, dramma nell'arma, il comandante della locale stazione Pasquale Scarinci muore in seguito ad un infarto. Poi il PSR 2014-2020, la Commissione Europea dà l'ok. Poi per le sigle sindacali dei veterinari, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo del Molise, caporale di Termoli, ha indetto un concorso pubblico fuori legge. A disegna gli studenti indossano gli albiti del professionista soddisfatti e motivati per il corso di formazione nell'ambito del progetto di alternanza scuola-lavoro. E poi ufficializzato il fermo biologico nel compartimento del medio adriatico dal 16 agosto al 27 settembre, soddisfazione della Venitelli. E andiamo ai quotidiani nazionali. Il Corriere della Sera, Grecia nel caos, finiti i soldi, scontri ad Atene, Tsipras intesa anche se vince il no, Juncker lo smentisce, allarme delle banche, liquidità fino a lunedì, via libera dei giudici al referendum di domani. Censure impossibili, la norma che vuole vietare la libertà di panorama, quei palazzi d'autore oscurati da una legge. Il decreto, il governo sblocca Monfalcone, l'ILVA va avanti dopo i sequestri dei giudici. Lasciamo il Corriere della Sera, andiamo alla Repubblica, Grecia, da martedì banche senza soldi, le piazze si sfidano, scontri tra i sostenitori di Tsipras e la polizia ad Atene. Negli istituti di credito è rimasto solo un miliardo, per i sondaggi i due schieramenti sono testa a testa. Consob riesce a risparmiare soltanto una famiglia su tre, l'Istat annuncia che il PIL è infrenata. E poi il racconto quando le donne parlano dell'ossessione d'amore, gli eccessi sentimentali che uccidono i rapporti, il testo del Nobel Coetzi. Dalla Repubblica andiamo alla stampa, Grecia, ultima sfida all'Europa, Tsipras diciamo no ai ricatti, Bruxelles e Berlino, anche se vince il sì, negoziati difficili. Ieri sera ai comizi finali in un paese spaccato, domani il referendum, le banche hanno liquidità solo fino a lunedì. La grande bubacl parte oggi dall'Olanda, Nibali cerca il bis, impresa mai riuscita ad un italiano, epiche coraggio al via il tour più duro. Dalla stampa andiamo a vedere il tempo, tragedia greca, soldi fino a lunedì. Giunto all'apice il default, nelle casse elleniche c'è rimasto un miliardo, Bruxelles attende l'esito del referendum di domani, se vince il no, Tsipras lascia forse. Indagata all'icona antimafia di sinistra, Copros e Camorra neguai il senatore Diana. Lasciamo il tempo, andiamo a vedere l'apertura del fatto quotidiano, Copros e Camorra alleate, indagato l'uomo antimafia del PD. Appalti del gas, torna in carcere Casari, ex presidente CPL Concordia. La Grecia divisa in due piazze, Tsipras restiamo in Europa, scontri tra la polizia e tifosi del no, gli oligarchi per il sì. L'apertura di avvenire, banche e tasche vuote, anche qui la Grecia in apertura, il voto greco è a rischio. Ad Atene annunce scontri, Tsipras spinge per il no. Referendum confermato, sondaggi in parità, il governo taglio al debito del 30%, ma restiamo nell'Unione Europea, Juncker così sarete più deboli. Anche la Francia ora si arrende agli uteri in affitto, registrazione dei bambini senza sanzioni. Poi l'unità dei cristiani, nel segno dei martiri, Francesco incontra rinnovamento nella Chiesa, incarichi a termine. Libero la Sicilia è la nostra Grecia, così ci trascina a fondo. La Corte dei Conti dall'allarme, con 8 miliardi di debiti e insostenibile, va commissariata o finisce male. Peccato che la consulta abbia impedito al governo di bloccare le decisioni senza copertura di spese. Salvini pronto a pagare i 50 miliardi della Grexit pur di dare uno schiaffo a Bruxelles. Silvio a ruola della Valle contro Matteo, ritratto di un potenziale premier. Dopo Libero andiamo al mattino. Grecia ha secco scontri in piazza, bocciato il ricorso sul referendum, alla sfida di Tsipras, un voto contro i ricatti dell'Unione Europea. Andiamo adesso al secolo d'Italia. Incontro Salvini-Meloni alla Camera, cresce l'alternativa al Renzismo. E siamo alle notizie sportive. La Gazzetta dello Sport, Milan e Inter dicono Scudetto, Stramilano, Berlusconi, Champions obbligatoria, Mialovic faremo paura, Mancini, la Juve non è lontana, Toir o grandi aspettative. Finalissima Cile-Argentina, spettacolo su Gazzetta TV, diretta dalle 22 sul canale 59 del Digitale Terrestre. Ecco dieci buoni motivi per non perdere la sfida. E con la Gazzetta dello Sport concludiamo il nostro appuntamento con la rassegna stampa. Grazie per averci seguito. L'informazione di Telemoli si torna alle 14. Buona giornata.